Bollette più eque, acqua sana e pulita, senza contaminazioni. È una gestione del servizio idrico che supera il modello di Gaia. È questo ciò che chiedono i comitati versilesi che hanno lanciato l'assemblea pubblica L'Acqua è Nostra, in programma venerdì sera alle 21 alla Croce Verde di Viereggio. Un'iniziativa organizzata da Repubblica Viereggina che segue quella del 21 luglio, sulla scia dell'ondata di protesta partita da Massa un anno fa con il comitato Acqua alla Gola, che a sondi firme, 15.000, chiedeva l'uscita dei comuni da Gaia. Oltre miglia le firme raccolte in Versilia dai vari comitati ambientalisti. Al tavolo ci saranno tre relatori, Baldi e Alfonso del comitato Acqua alla Gola, che parlerà dell'ultima situazione, gli ultimi sviluppi che ci sono stati con Gaia. Poi c'è Pelliccioni Luigi del comitato di Val di Castello contro il taglio, che appunto parlerà del loro problema che ancora tuttora non è risolto e quindi sulla qualità dell'acqua. E per ultimo interverrà come relatore Roberto Balatri che ci dovrà illustrare un po' la situazione idrica e quali sono le risorse di qui al futuro. Sulla gestione del servizio pubblico idrico i cittadini riuniti nei comitati per l'acqua chiedono una presa di posizione netta da parte dei sindaci della Versilia. No, intanto noi rivendichiamo il referendum che diceva che l'acqua doveva tornare pubblica e poi insomma le responsabilità dei sindaci che ci hanno condotto dentro Gaia illudendo il cittadino che le tariffe sarebbero state carnierate e quindi più basse, ma in realtà non è così perché oggi il problema delle bollette è veramente pesante.